Il marito perfetto e la moglie perfetta sono pronti a qualunque cosa pur di salvaguardare quell'unione imperfetta ma preziosissima. Anche a uccidere. Ma che mi stai guardando il culo? Comunque so cosa i colleghi pensano di lui. Un polizotto eccezionale è un uomo detestabile. E so cosa dicono di me. Un magistrato eccezionale è una donna detestabile. Non sarà facile lavorare con uno che ha fama di voler fare tutto a modo suo. Faccio solo lavoro. Cerco assassini finché li catturo. Non so consolare. Non so capire il dolore di un padre. Dillo che hai affianza con Scarlett. Dillo di nuovo. Cos'altro devo dirvi ancora? La verità.